Che buone le orecchiette pugliesi, chiamate anche cup ted o cappelletti. Le nostre nonne amavano farle a mano in casa e preparare ottimi primi piatti. Le tradizionali orecchiette pugliesi sono alle cime di rapa, ma sono ottimi anche con salsa di zucca, con ricotta condita di sale e pepe, al ragù di carne e con salsa nostrana con spasa di tipica cacio ricotta pugliese.